Oh, finalmente posso riposarmi un po'. Dio, se mi sto stancando di questa merda. Tutte queste persone e le loro stupide domande. Perché sorride in quel modo? Com'è possibile che mi stia guardando in faccia? Beh, news dell'ultimo momento, ho dei fottuti occhi. Pensate che voglio sedermi qui tutto il giorno a posare per i vostri selfie. Anzi, sapete cosa? Me ne vado. Merda. Oh, fantastico, una completa idiota. Sì, nemmeno chi sono, ragazzina. Ok, te lo dirò. Se dico Mona Lisa, viene in mente qualcosa? Yes, Mona Lisa! Can you take me there? No!